Se andiamo a disegnarla sul grafico che abbiamo visto prima, quindi quello di una singola curva, vediamo che a un certo punto questa curva del circuito, che è quella tratteggiata, va a intersecare la curva di pressione statica del ventilatore. Quello è il punto di funzionamento, quello è lo scopo per cui si prende un ventilatore e si mette in un impianto. Cioè in quel punto c'è un equilibrio tra quello che il ventilatore può dare in termini di portata e pressione e quello che l'impianto può far passare in termini di portata e di perdita e di carico. Non può essere nessun punto di funzionamento al di fuori di quell'intersezione, perché se è un punto di funzionamento del circuito deve stare per forza sulla curva del circuito e al tempo stesso, se è un punto in cui il ventilatore lavora, deve stare per forza sulla curva del ventilatore. Ne consegue che solo l'intersezione di queste due curve può essere un punto di lavoro per quel particolare circuito e per quel particolare ventilatore, chiaramente. La potenza si va a leggere non guardando l'intersezione della curva del circuito con la curva della potenza, perché sono due grandezze separate, ma semplicemente una volta che abbiamo trovato la portata che corrisponde al puntino nero, si scende giù in verticale fino ad arrivare alla curva della potenza dove c'è quel pallino rosso. Quella lì è la potenza assorbita in quelle condizioni di lavoro. Se vario K, quindi la caratteristica del circuito, che mi determina quanto è resistente, se la curva del circuito si abbassa, quindi si sposta un po' più verso destra e verso il basso, di conseguenza andrà al punto di funzionamento del ventilatore e quindi andrò a potenze assorbite più alte. Grazie a tutti.